andiamo un attimo con lei non voglio toccare ancora la mia unità familiare voglio prima vedere se si possono piazzare quelle lì che ho preso nella galleria ok allora l'unità di per sé è grande apro la mia galleria la mia se volessi mettere una bella casetta lo posso fare un po' Allora, lotti, presidenziale, oh, adesso si. Questa sarebbe tutta da arredare però, questa mi piace un sacco. Allora, lotti, presidenziale, oh, adesso si. Wow, oh mio Dio, che meraviglia. Allora, quest'albero magari è in mezzo alle balle. Ok, adoro. Ok, adesso si. Andiamo un po' più da vicino. Oh mio Dio, è bellissima, regà. Ok, qui c'è tutta una postazione, io potrei ricavarmi un posticino per metterci il mio pianoforte da qualche parte, forse. Non è detto. Ah, ma qui c'è un altro piano, ragazzi. Allora, facciamo così, ragazzi. Se volete, e ripeto, se volete che io mi trasferisca in questo lotto, insieme a quello che attualmente è ancora il mio fidanzato, perché per ora ancora non abbiamo scelto altre cose. Scrivetemelo nei commenti, ragazzi, ovviamente. Questo lo salviamo. Proviamo a tornare al menu principale. Ok, quindi, regà, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti se volete che io vada a vivere con il mio... No, io voglio giocare con loro. Ok. 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 Allora, ragazzi, noi attualmente siamo ancora qua, in questa casa qui, quella che era in teoria la loro prima. Quindi, eventualmente, se vogliamo cambiare casa, me lo dovete scrivere nei commenti, ragazzi. Allora, questa casa, diciamo che non è brutta, però comunque è un po' piccolina. Però, ripeto, quello che io vorrei sapere da voi è se, e dico se, dobbiamo cambiare casa per andare in quella lì, con il nostro compagno. Perché attualmente è ancora il nostro compagno, ragazzi. Allora. Ma perché lui deve dare fuoco a tutto? Ma perché... Perchè non posso fare una serenata? Ah! Esci da questa vasca un po'? Fai una serenata. Ne ho un po' regà. T'ho curiosa. Oppure, un'altra cosa che stavo pensando, ragazzi. Se non vi piace quella lì, in teoria potremmo rimuovere quella, e se ne avete una voi da consigliarmi, me la potete consigliare, ragazzi. Ovviamente deve essere compatibile con i miei pacchetti, altrimenti non ha senso, ragazzi. Perché altrimenti se poi levano tutto perché non ho i pacchetti necessari, ragazzi. Oddio! Che bello! Che bello! Grazie a tutti. Grazie. 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 io vi faccio anche quest'altra proposta oltre a scegliere la casa ragazzi scegliete anche dove vogliamo scotarci a mi piacerebbe farlo in un bel giardino quindi in questa casa in una casa nuova scrivetemelo nei commenti altrimenti raga dovrò decidere io invece a me piacerebbe farla insieme a voi questa scelta perché le cose sono andate un pochino più veloce del previsto però che c'è prega raga nel senso passo dietro anch'io perfetto ragazzi quindi vi aspetto con le decisioni importanti nel passo ciao 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 ciao